Il capitolo dei numeri della maggioranza non riesce a decollare, lo dimostra anche l'approvazione ieri sera del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale. La seconda convocazione con una soglia di voto inferiore ancora una volta ha dato una mano ai progreco il piano portato in aula dall'assessore Giuseppe Licata ed esposto al comandante della Municipale Giuseppe Montana è passato con 10 voti favorevoli, alla fine si conta un solo astenuto. La garanzia del numero legale comunque come è già accaduto per il consolidato 2020 è arrivata con la presenza in aula di esponenti di opposizione e di indipendenti. Hanno espresso la loro opposizione fino alla conclusione dei lavori tra gli altri anche la grillina Virginia Ferruggia, gli indipendenti Alessandrace, Luigi Di Dio così come la Demgetan Orlando e il capogruppo di Liberamente Vincenzo Casciana. Non hanno partecipato al voto finale invece i forzisti. Il sì è arrivato dai consiglieri civici di una buona idea, impegno comune e un'altra gele dall'esponente della nuova DC Vincenzo Cascino. Un altro indipendente, l'ex capogruppo di Avanti Gela, Salvatore Scerra, è stato invece fortemente critico sia verso il piano che nei confronti dell'amministrazione comunale che l'ha portato in aula. Ha parlato di un piano che non risolve i tanti problemi che gravano sul corpo della Polizia Municipale. Secondo Scerra l'amministrazione comunale ha perso l'occasione di nuove assunzioni garantita dal decreto Salvini. Dovrebbero esserci in base ai numeri che ha fornito non meno di 200 agenti di Municipale in servizio, mentre il comandante deve invece portare avanti le attività con circa una cinquantina di unità. Prima che si arrivasse al voto sul piano è passato il maxiemendamento presentato dalla grillina Farrugge e dall'ex dem Alessandrace, attualmente nel gruppo misto come indipendente. C'è stato bisogno di un ampio dibattito e di un confronto con il comandante e con il segretario generale Loredana Patti. Sull'emendamento si sono registrati gli stessi numeri, 10 voti favorevoli e un'astenzione. Probabilmente la seduta di ieri sera rafforza la necessità di una nuova verifica di maggioranza che dovrà essere condotta dal sindaco Lucio Greco.